buonasera ben ritrovati con il telegiornale nella lingua dei segni salvata questa mattina ad ischia una tartaruga marina l'animale era stato recuperato dopo che era stato avvistato sul pelo dell'acqua impigliato in una rete da pesca tra la sgarrupata e punta san pancrazio in occasione della visita ad limina apostolorum iniziata oggi a roma il vescovo di ischia e pozzuoli monsignor carlo villano ha scritto ai fedeli delle due diocesi dicendo nella visita pastorale alla diocesi di ischia del 5 maggio 2002 san giovanni paolo secondo ci esortava a diventare un laboratorio privilegiato anche di quella tipica accoglienza che discepoli di cristo sono chiamati ad offrire a tutti a napoli presentato alla stampa il nuovo ascensore di montecchia che sarà inaugurato nella giornata di domani dopo quasi 18 anni dal progetto iniziale questa sera alle 21 e 10 torna l'appuntamento con a bordo campo il commento ospiti del direttore enrico buono lo storico direttore sportivo dell'ischia calcio enrico scotti e il calciatore del real fuorio pablo a costa collegato da remoto anche il calciatore dell'ischia calcio giuseppe maggiorano grazie per averci seguito e buona serata